Questo non è vero, questo non è vero perché sicuramente queste frasi vengono sempre nei momenti quando non ci sono risultati, vengono sempre fuori queste dicerie, sicuramente la squadra è una squadra che lotta, è una squadra determinata, sicuramente quando i risultati non vengono si dice questo, sicuramente da parte nostra come da parte di tutto l'ambiente ci deve essere più consapevolezza e più cattiveria perché se uno dà il 100% e non basta sicuramente deve dare qualcosina in più, sicuramente siamo una squadra che se non è riuscita a fare tre risultati consecutivi, qualcosa in più dobbiamo mettercela, noi ce la metteremo già da questa partita e speriamo che gli episodi vengono a nostro favore. Sicuramente il periodo delle tre sconfitte non è mai successo, ci è successo queste tre settimane, sicuramente noi prima di Ascoli abbiamo fatto un ottimo campionato, per essere il di fare risultati in tutti i modi, di muovere la classifica, è un momento difficile e delicato per noi, questi sono momenti che arrivano per tutte le squadre, adesso lo stiamo vivendo noi e dobbiamo fare quadrato con la squadra, con l'ambiente, anche con magazzinieri, massaggiatori, sicuramente i risultati aiutano, se riesci a fare risultato è importantissimo per il morale ma è importantissimo anche per la classifica, se riesci a vincere sabato sarebbe una grossa iniezione di fiducia per la squadra e per la classifica, questo non vuol dire che la squadra non ha fiducia nei propri medi, però sicuramente in questi momenti quello che ti può aiutare è il risultato.